Musica Ben trovate a questa nuova puntata di Talk Sicilia questa estate che sta passando è stata caratterizzata da incendi incendi molto gravi e sedi considerate che proprio in questi giorni c'è stata l'ultima vittima un'operaia forestale che è morta mentre spegneva l'incendio è stata molto complicata luglio e agosto soprattutto in alcuni periodi qui a Palermo abbiamo avuto numerosi e gravissimi incendi cerchiamo di analizzare quello che è successo e cerchiamo di iniziare un dibattito una serie di puntate per affrontare appunto questo tema e cercare di capire cosa si può fare se si può fare qualcosa per cercare di limitare i danni per la prossima stagione lo facciamo iniziando con chi poi lavora concretamente e cerca appunto di spegnere il fuoco e quindi sa benissimo di che cosa stiamo parlando abbiamo invitato Davide Apprendi che è il segretario provinciale del ComSAL che è appunto un sindacato dei vigili del fuoco ben trovato? grazie, grazie a me per l'impero allora, dicevo prima che è stata un'estate particolare forse, dico, in ogni estate ci sono stati sempre questi incendi ma quest'anno ci sono state pure le vittime quindi è stata una cosa veramente difficile innanzitutto fammi porre queste mie sentire condiglianze non soltanto da parte mia ma da parte tutta la segreteria alla famiglia di questo peròio della forestale che è rimasto coinvolto ed è deceduto in seguito alle ferite riportate veramente un episodio che rattrista e che rattrista chiaramente tutti ci ritroviamo più o meno ogni anno a fare le stesse questioni ad affrontare sempre gli stessi argomenti quest'anno rispetto agli altri anni io sono 22 anni di servizio e gli ultimi 10 li ho passati in questa splendida città che poi è la mia città quest'anno è stato veramente difficile e veramente duro perché? guarda, io mi sono fatto una convinzione è chiaro che in questo momento ci sono degli atti secretati ci sono delle indagini da parte della procura e soprattutto ci auguriamo che non siano indagini separati nel senso che non si può trattare l'incendio di Pizzosella scorporandolo da quello di via torrente d'inverno che diciamo è bocca di falco ma abbiamo avuto una noi speriamo che ci sia una regia unica da parte della procura e che affronti questo argomento in maniera veramente unilaterale perché l'attacco è stato un attacco contemporaneo nella notte che andava fra il 24 e il 25 luglio se tu ti giravi a 360 gradi sulla città vedevi che veramente era un attacco contemporaneo degli inneschi praticamente scientificamente studiati in maniera tale da non riuscire ad intervenire in maniera tempestiva se tu consideri che i tempi di risposta rispetto agli altri anni sono stati da parte nostra sono stati veramente dilatati non siamo riusciti in nessuna maniera a fronteggiare nell'immediato diciamo che per noi perché eravate distribuiti? ma assolutamente le forze in campo non erano necessarie ma non perché noi eravamo impreparati perché un evento del genere non hai la preparazione dal punto di vista degli uomini di mezzi tale ma su tutto il territorio nazionale cioè se un evento del genere fosse successo in Emilia Romagna piuttosto che in Lombardia chiaramente loro hanno un vantaggio che le colonne mobili o meglio per essere diciamo in maniera tale che l'argomento arrivi a tutti essendo su terraferma è chiaro che se io mi trovo in Lombardia dal Piemonte i mezzi arrivano con una certa velocità noi siamo purtroppo un'isola quindi questo è un discorso che si fa da anni l'autonomia del soccorso riuscire a dare a questa isola uomini e mezzi sufficienti per fronteggiare emergenze di questo tipo e quindi nel momento in cui succede una macroemergenza come questa è evidente che diventa molto più complicato perché se tu pensi che poi i primi soccorsi dalla penisola sono arrivati dalla Toscana e sono arrivati praticamente tre giorni dopo quando tutto il peggio era praticamente passato ma il peggio è passato come? noi veramente ripeto il dolore per questa vittima che hai citato tu ad inizio ma noi abbiamo veramente rischiato che i colleghi che alcuni dei nostri colleghi ci sono sempre forestali morti ci sono stati due decini si marito e moglie che sono rimasti uccisi dentro la casa dico quindi in quel momento ci sono state delle situazioni veramente molto molto serie però io ricordo che la sera proprio o nell'immediato subito dopo quanto è successo tu hai avuto uno sfogo sui social perché giustamente siete stati attaccati siete stati perché noi abbiamo i giornalisti dico lo fanno dico non tutti ma lo fanno danno voce ai cittadini i cittadini in quel momento erano veramente arrabbiati ma arrabbiati perché si sono trovate le case distrutte le case minacciate e quando si minacciano le case dico i problemi sono sono seri perché sono veramente un attacco un attacco alla propria alla propria vita a quello che hanno costruito quindi dico il loro sfogo era assolutamente diciamo comprensivo cioè era chiaro dico non c'era nulla quindi da parte tua invece siccome voi avete messo in campo le forze che c'erano quella disposizione avete dato diciamo il mille per mille come succede sempre quindi è normale che in quel momento le critiche vi sono sembrate abbastanza pesanti o difficili da digerire no le critiche noi le accettiamo perché nel momento in cui tu perdi la casa significa che c'è stato un problema significa che c'è stato evidentemente un ritardo e qualcosa che non ha funzionato il problema e come ho detto in questo video che ci citi tu lo sfogo è legittimo assolutamente legittimo perché ripeto tu perdi i sacrifici di una vita il problema è capire perché si arriva a questo fondamentalmente è quello che vogliamo fare adesso il problema è capire perché si arriva a questo perché guarda pensare che il fuoco sia entrato a Borgo Nuovo che non può essere considerato una periferia di questa città o meglio potrebbe essere considerato una periferia fino a vent'anni fa oggi non lo è più Borgo Nuovo è parte integrante di questa città se il fuoco arriva dentro questo quartiere di Palermo e non è la prima volta che arriva dentro quel quartiere e non è la prima volta che arriva dentro significa che c'è un problema perché posso capire che tu sei preparato la prima volta posso capire che tu sei preparato la seconda volta ma ad oggi diventa un problema ma se ci andiamo adesso è nelle stesse condizioni assolutamente sì perché non c'è stato fatto falcio non c'è stato fatto niente non c'è fatta la pulizia non si puliscono i vecchi canali esatto ma il problema lo sai qual è che se tu invece di intervistare me avessi preso un giornale di Sicilia all'ora di vent'anni fa un tuo giornalista avessi intervistato un sindacalista dei regi del fuoco avrebbe detto le stesse cose quindi allora qualcosa che si può fare ma assolutamente la prevenzione diventa fondamentale il lavoro questi incendi non si spengono a luglio questi incendi si spengono a marzo nel momento in cui escono le disposizioni da parte dei comuni che riguardano la pulizia dei terreni si deve effettuare un controllo serrato del territorio per accertarsi che quei terreni siano stati puliti che non ci siano sterpaie nei terreni soprattutto di proprietà e quindi è chiaro ed evidente che se io tolgo la sterpaia quindi tolgo il combustibile tolgo il combustibile determinati è chiaro che poi diventa questo quasi la parisiano che l'evento atmosferico che il vento di Scirocco che gli incendiari che i piromani come li vogliamo chiamare il malato mentale che il piromani che colui che ha interessi di carattere economico perché poi alla fine ripeto io mi auguro che questa volta la procura riesca a mettere un punto rispetto a questa cosa per capire di che cosa veramente stiamo parlando chi sono questi che hanno interesse a bruciare contemporaneamente perché per tanti anni e tu lo sai io non ho l'abitudine non sono politicamente corretto non ho peli sulla lingua per tanti anni si è puntato il dito sugli operai stagionati della forestale e sai che io ma ad oggi sembra che da questo punto di vista loro siano diciamo perfettamente tra l'altro qualcuno è stato rinviato al giudizio ma è stato poi prosciolto ci sono state una serie di cose e quindi ci rendiamo conto che anche questo potrebbe essere anche questo potrebbe essere un falso mito quindi dobbiamo capire quali sono gli interessi se si tratta ripeto di gente malata mentale piuttosto che di piromani se si tratta invece di qualcuno che ha altri interessi economici però ripeto è chiaro lo sottolineo che eventi atmosferici che lo scirocco però una cosa è riuscire a tamponare in determinate zone della città quello che appare inaccettabile è che il fuoco arrivi dentro la città questo è chiaro che noi ci dobbiamo porre un quesito come si fa? dobbiamo sederci tutti intorno a un tavolo incominciando dai vigili del fuoco dalla protezione civile dalla forestale che ricordo che in questa regione è un ente autonomo quindi all'interno della regione perché mentre in tutto il resto dell'Italia il corpo forestale è stato smantellato ed è stato accorpato o ai vigili del fuoco o ai carabinieri noi abbiamo un corpo forestale che è regionale che fa capo all'assemblea regionale pertanto ci dovremmo sedere intorno a un tavolo capire quali sono i provvedimenti da fare nell'immediato capire come sfruttare tutti questi operai della forestale per fare quegli interventi di bonifica io sono stato all'interno dell'attività che svolgo e che faccio parte del nucleo investigativo e dell'ufficio polizia giudiziaria del comando provinciale vigili del fuoco di Palermo e sono andato alla chiesa di Santa Maria di Gesù Santa Maria di Gesù com'è che è arrivato a bruciare la chiesa di Santa Maria di Gesù? guarda io ti dico sono andato nel boschetto sopra Santa Maria di Gesù e ti devo dire che è un salotto un salotto nel senso che gli operai della forestale lì fanno un lavoro eccezionale in quel caso ripeto senza voler anticipare nulla perché anche in questo caso ci sono delle indagini aperte ma c'è stato una serie di eventi sfortunati perché il terreno sopra è perfettamente pulito ma c'è l'albero che non ha preso fuoco le tombe non hanno preso fuoco e ha preso fuoco la chiesa perché purtroppo anche lì ci sono stati dei colleghi che sono liberi dal servizio e tu lo sai sono intervenuti si sono prodigati e questo è diciamo all'interno del DNA dei vigili del fuoco che indipendentemente dal fatto se sei più o meno nelle condizioni potrei fare ti butti e cerchi di risolvere la questione però ripeto lì sopra si tratta veramente ma ci sono tante zone nella città in perfetto stato di abbandono di abbandono assolutamente e non soli privati diciamo non soli privati anche terreni pubblici c'è stato il problema della provincia che noi non abbiamo più la provincia ci sono tanti territori che fanno durante i incontri in prefettura è stato fatto notare al comune di Palermo che Monte Pellegrino non era completamente ripulito era a base anzi proprio il 24 e il 25 luglio Monte Pellegrino si è salvato non si è salvato poi successivamente quando è successo ad agosto quindi evidentemente diciamo qualche cosa però si può fare si deve fare allora dal punto di vista di uomini e mezzi siamo preparati io dici che non c'è bisogno assolutamente perché in questi casi potevamo avere pure un esercito e sarebbe successo la stessa cosa però da un punto di vista di uomini e mezzi anche questa volta il numero è stato ridotto guarda in questi casi avviene il raddoppio dei turni quindi praticamente i vigili del fuoco passano ad un'ora di 24 ore e raddoppiano le forze in campo ok ed è chiaro che si cercano di mettere in campo tutti i mezzi necessari l'incendio boschivo è un incendio che va spento fondamentalmente con i moduli quindi sono dei pick up che hanno un modulo antincendio sopra che sono un pochettino quelli che hanno i volontari della protezione civile ok probabilmente da questo punto di vista andrà fatto un investimento in questa terra per cercare di però io la mia convinzione ed è quella dettata dalla mia esperienza personale è che l'incendio tutto avviene in fase di prevenzione ok bisogna instaurare dei tavoli tecnici febbraio quindi diciamo tavoli tecnici devono sconunciare a marzo a febbraio marzo perché per fare i tavoli tecnici a giugno e luglio è assolutamente inutile se tu sali oggi via Villa Grazia per dirti una delle vie della nostra città tutto il costone diciamo che va dal carcere di Pagliarelli che poi va verso Villa Grazia è un costone che è destinato prima o poi a prendere fuoco e veramente a lambire quel quartiere della città perché non è pulito perché nessuno si occupa di quella pulizia ed è chiaro ed evidente che nel momento in cui come la raggiungi l'unico modo per raggiungerlo è utilizzando i canader ok i canader chiaramente possono volare in determinati sì certo l'anno e la sera non possono volare e quindi il gioco è fatto perché con lo scirocco il piromane molto spesso dà fuoco durante la notte in maniera tale da rendere più difficoltoso o la sera o in maniera tale da rendere più difficoltoso l'intervento l'intervento e quindi questo appare evidente quindi ripetiamo noi siamo stati quello che mi preme sottolineare è che l'impegno dei vigili del fuoco come sempre non è mancato quello che mi preme sottolineare è in virtù anche per richiamare quello che dicevi tu rispetto al mio piccolissimo sfogo fatto su facebook che non ce l'avevo chiaramente con nessuno ma era totalmente a difesa dei colleghi perché io la mattina li ho visti io ho visto quelli che per me non sono colleghi ma sono fratelli perché gente con cui ho condiviso 15 anni di carriera e li ho visti veramente estremati devo ringraziare anche chiaramente la catena di comando e i vigili volontari che sono stati determinanti noi abbiamo i vigili volontari di Carini di Prizzi abbiamo 4-5 distaccamenti volontari che sono stati determinanti nelle opere di spegnimento i vigili del fuoco di Carini hanno fatto un'opera straordinaria a San Martino delle Scale probabilmente senza loro San Martino delle Scale e molte delle abitazioni di via torrente d'inverno oggi non ci sarebbero più ma parliamo di gente che ha lavorato in maniera interrotta per 16-18 ore e capisci che non siamo ragazzini l'età media di questo comando è un'età media altissima probabilmente l'età media come quella dei forestali è l'età media più alta d'Italia per quanto riguarda i vigili del fuoco quindi quando tu prendi una persona un uomo che ha 48-50 anni lo metti per 16 ore a quei ritmi di lavoro noi abbiamo rischiato la squadra di Brancacce è stata è andata tutta al pronto soccorso perché è stato intossicato un capo squadra della centrale veramente guarda io sono stato quelle 12 ore 14 ore veramente in tensione perché mi aspettavo che da un momento all'altro mi arrivasse qualche telefonata che c'era qualcosa che non andava soltanto la preparazione la capacità l'esperienza dei colleghi hanno consentito che non succedesse nulla di tragico nulla che non si potesse raccontare ma è chiaro che non ci possiamo sottoporre a questi rischi è chiaro che non sempre può andare bene anche se questa volta non è andata bene perché molto spesso noi mettiamo in preventivo che possa andare verso un capannone industriale in periferia ma ripeto questa volta siamo entrati in città questa volta e noi abbiamo veramente una chiesa importante abbiamo avuto danni veramente diciamo diverse case ci vuole quel senso di responsabilità per fermarsi un attimo e capire veramente cos'è necessario fare coinvolgere tutte le forze in campo senza perché a volte nella difesa civile c'è un po' di confusione no? e allora sempre per quel politicamente non corretto quale sono c'è qualcuno che tende a tirare la giacca perché è mio perché è tuo i vigili del fuoco bisognerebbe lavorare insieme perché le forze sono quelle che sono e bisogna lavorare insieme bravo non abbiamo né forze né risorse infinite quindi riuscire a essersi intorno a un tavolo e comunque oggi abbiamo le condizioni per sapere sin da due giorni prima tre giorni prima quali sono le condizioni quali sono le condizioni e quindi bisogna cambiare anche un po' strategia perché dico le forze devono essere messe in campo direttamente secondo me già questa cosa di presidio secondo me già farebbe moltissimo invece che non restare in caserma aspettando il fuoco guarda questo è un aspetto di cui si è sempre parlato e io non lo condivido anche perché io ti ricordo che oltre allo straordinario che tu stai citando c'è sempre l'ordinario noi abbiamo l'ordinario c'è l'incendio l'incendio appartamento che parte perché la signora ha dimenticato il pentolino c'è la signora che è rimasta fuori casa e secondo te non è un soccorso c'è l'anziano che deve essere soccorso in casa ci sono tutte quelle cose che si fanno quindi molto spesso tu una squadra la devi tenere dentro per questo tipo di emergenza però questa volta noi abbiamo avuto e questo mi preme dirtelo ci sono stati episodi veramente terribili gente che è arrivata in caserma cercando di accaparrarsi i mezzi perché dovevano spegnere l'incendio noi siamo stati vittima di aggressione e questo non va bene questo significa che c'è veramente qualcosa che non va perché fino a quando poi ripeto noi riusciamo a raccontarla riusciamo a io sono qui a parlarne con te e alla fine tutto è andato come è andato va bene ma nel momento in cui il collega viene aggredito perché il collega c'è stato un collega che a Mondello è stato aggredito nel momento in cui vedi arrivare 4-5 persone in caserma che vogliono prendere un autogru convinti che quello sia un mezzo adibito all'estinzione dell'incendio significa che oggettivamente è qualcosa che non va bene cioè noi come sindacalisti abbiamo chiesto che la prossima volta che succeda una cosa chiediamo che le caserme vengano piantonate dalle forze dell'ordine perché non si può rischiare che il piantone che è l'unico che rimane in caserma per consentire appunto la guardiania debba essere aggredito e questo significa che c'è un problema quindi noi speriamo che questa volta come non mai ci siano dei tavoli tecnici che coinvolgano tutte le forze in campo senza nessun braccio di ferro senza nessuno che voglia dimostrare di essere più bravo più preparato è chiaro che noi come Vigili del Fuoco facciamo questo nella vita non siamo volontari ma facciamo questo nella vita lo facciamo con uno spirito lo facciamo preparandoci lo facciamo 365 giorni all'anno per 24 ore all'anno con una preparazione non guardando l'orario no guardando l'orario non guardando l'orario e neanche di scontro economico e neanche lo stipendio tu sai che per me il Vigili del Fuoco è una questione di famiglia io ho tre zii da parte di mamma che da parte di papà e un cugino che hanno fatto la storia apprendi è un cognome che molto spesso viene accoppiato ai Vigili del Fuoco e l'ho fatto veramente per passione ma molti di noi lo fanno per passione molti di noi lo fanno vivendola come una missione perché ci sono veramente delle professionalità importanti e tu oggi pensa che il nostro corpo si è specializzato a tal punto ad avere 10-12 specializzazioni noi facciamo dei terremoti agli alluvioni abbiamo il nucleo sommozzatore che il nucleo sommozzatore di Palermo è veramente un'elite in tutto in tutto il territorio nazionale quindi diciamo speriamo soltanto quel pizzico di attenzione in più e quella programmazione necessaria per evitare che due tre cose da chiedere perché il tempo sta al per quanto riguarda diciamo il potenziamento del comando provinciale di Palermo guarda arriveranno delle nuove risorse umane probabilmente il mese prossimo noi speriamo che andranno in pensione circa 5.000 unità a livello nazionale nel prossimo biennio quindi ci sono due concorsi in itinere e speriamo che arrivi gente speriamo che arrivano ragazzi a Palermo in maniera tale da darci una mano e da ringiovanire un attimino questa caserma senza chiaramente perdere quello spirito necessario è assolutamente la professionalità io volevo chiudere ringraziandoti lo faccio alla fine in maniera tale da non sembrare da non volerti dare il contentino ma sei uno dei pochi giornalisti che ci presta attenzione che presta attenzione alle vicende dei vigili del fuoco e quindi per questo ti volevo assolutamente ringraziare per la tua disponibilità ed inoltre volevo dirti volevo darti questa notizia sarò brevissimo si è istaurata una nuova moda a Palermo martedì non in una periferia martedì in pieno centro di Palermo una pièce di vigili del fuoco è stata derubata per l'ennesima volta di motosega e mototroncatore ed è una cosa gravissima perché quel mototroncatore e quella motosega possono servire e vengono utilizzate per salvare il mito umano quindi mi rivolgo non a chi ha effettuato il furto ma a chi poi compra sul mercato nero sappiate che quella è roba fondamentale per le operazioni di soccorso e dispiace che determinati episodi avvengano nella mia città questa cosa veramente mi è rattrista non chiudiamo con queste belle notizie purtroppo però daremo sicuramente appuntamento a Davide Apprendi appunto segretario provinciale della Confstal vigili del fuoco per altre puntate perché come vedete gli spunti sono tanti anche perché adesso abbiamo finito la stagione degli incendi con cui parleremo appunto con tanti altri tanti altri ospiti ma comincia come diceva pure quella dell'alluvioni che anche lì diciamo poi li verranno purtroppo impegnati allora con Davide Apprendi è soltanto un arrivederci come con voi e telespettatori appunto di Talk Sicilia alla prossima puntata a Grazie a tutti.